Giorgio D'Ambrosio, sindaco di Pianella, si presentano i dati del suo sportellunico attività produttive, un esempio di buone pratiche amministrative dove la pubblica amministrazione funziona. Sì, è un buon esempio, dimostra come le cose fatte insieme, l'associazionismo al quale tanto teniamo, se portato avanti con tenacia può dare degli ottimi risultati, in questo campo sono degli ottimi risultati in quanto abbiamo tendo un po' di roccia e soprattutto risparmio dei costi. 41 comuni, quasi 1200 pratiche e soprattutto zero contestazione, una procedura che si fa online a beneficio dell'efficienza. 41 comuni sono tanti, su 46 ci auguriamo che anche gli altri possano aderire in futuro a questa importante iniziativa per la gestione insieme, unitaria. I tempi di realizzo sono velocissimi, noi abbiamo abbattuto i tempi oggi, a parte che c'è anche la scia, quindi si è ulteriormente velocizzata. Poi abbiamo presentato un progetto alla regione Abruzzo che riguarda sempre lo sportello unico, noi a quale andiamo ulteriormente a potenziare l'aspetto dell'informatica per arrivare a una gestione totalmente online. A Pianella e in tutti i comuni che hanno aderito a questo sportello unico di attività produttive del comprensorio, praticamente c'è un solo ufficio al quale rivolgersi per iniziare la propria attività. Sì, c'è un solo ufficio che abbiamo volutamente ubicato in via Passo Langeone a Pescara, che poi è il cuore economico della nostra provincia, dove è possibile anche raccordarsi con gli altri uffici importanti dei quali dobbiamo tenere conto. C'è un solo sportello, noi andiamo a presentare la pratica e lì verrà analizzata, poi è compito dello sportello, chiedere eventualmente gli altri pareri aggiuntivi o insieme in conferenze di servizio, anche in via ufficiale, attualmente utilizzando il fax, laddove è possibile la struttura digitale, ci auguriamo in futuro totalmente online. Sicuramente l'obiettivo è quello di mettere il cittadino al centro, lo sportello unico, è proprio un esempio, un esempio della buona politica, della buona azione, anche l'opera di coloro che ci opera, che hanno fatto sì che si possa migliorare un servizio e andare incontro a quelle che sono le esigenze dei cittadini e degli operatori. I cittadini e degli operatori vogliono risposte veloci, vogliono risposte certe, anche perché oggi con l'andamento dell'economia è sempre più necessario agire in questa direzione, noi dobbiamo rafforzare questo concetto e traslarlo anche ad altre iniziative che si possono portare sul territorio.